Ma un giorno mi hanno intervistato qui insieme Ma perché no? Io l'ho richiamato, non ci ho parlato Guarda in camera a invitarlo per favore Perché io sono mesi che lo chiamo a Filippo Mi gosta Filippo Che vuol dire che Non ci rispondi Ma non risponde E poi ogni tanto facciamo dei vasi di argilla E poi ogni tanto lo incontro al Pigneto saluto così tranquillamente È un po' snob Filippo c'è questa cosa che è un po' snob È venuto anche a vederci a noi, è venuto al Velvet qualche tempo fa E disse che era passato per cazzo Passato per cazzo Stavo facendo la spesa Alle 11 di sera Filippo dai Veniamo qua insieme a fare un'intervista A Kebab Podcast Però no, andiamo in un'altra parte No, no, no Se andiamo in un'altra parte Al messaggero, a Repubblica Rilevante qualche parte È importante Domani è mezzogiorno un'intervista a Lanza, andiamo insieme No Ci siamo Benvenuti a questo nuovo podcast Appena inventato da un nome veramente terribile Un podcast a strati Beh, è bellissimo È terribile ma è bellissimo È sublime È sublime, sì È come vedere il Vesuvio che esplode Piacevole ma allo stesso tempo anche distruttivo Anche distruttivo Comunque ci presentiamo Io sono Pietro Monfreda Io sono Vincenzo Minichella E qui con noi abbiamo l'artista del giorno Perché non so quando vedrete Ma questa sera Oggi possiamo dirlo Che è il 14 gennaio 2024 Sarà al Wishlist Club Con noi A fare la prima serata a Roma Dopo tanto Dopo quant'è? Più o meno? Un anno Un anno Un anno E tu è venuto al Brancaccio però l'ultima volta Non al Wishlist No, veramente ho detto una cazzata Perché un anno Sono stato poco prima del fattaccio Era aprile Sono stato al Teatro dei Servi Ah, vedi, quindi A questo punto diciamo il nome Possiamo dirlo Diamo un grandissimo benvenuto All'unico vero imperatore Che sorpresa, eh Che sorpresa Però c'è il montaggio C'è il montaggio Quindi in un certo senso ci sarà Dopo ti eliminiamo Dopo ti eliminiamo Con gli effetti speciali Ecco a voi Giorgio Montanini Evviva Grazie Meraviglioso questo podcast Per adesso c'è solo il terribile del podcast Che stanno dietro questi due Io ho lasciato fare Non voglio intervenire Ma sai perché? Minimamente sulla creatività stilistica Però ecco Volevo fare una cosa particolare Perché tutti quanti fanno questi podcast Che si guardano Che cercano questa intimità finta falsa Invece noi già ci conosciamo È inutile che stiamo a sfrugugliare ancora Anche con le macchine Questi che vanno uno in un senso E uno in un altro Io farei tutto in lo stesso senso Con la stessa corsia Perché per cambiare Capito? Perché hanno una corsia di destra No Una unica corsia dove tu ti scontri Perché tutti quanti vanno Uno a destra e a sinistra È l'anarchia È una cosa che si fa da anni Perché c'è un senso Nella stravolgiamo completamente Esatto Ma tanto sono cazzi vostri Vediamo Se qualcuno si troverà a vomitare Con sto coppia Perché si sente Nausea podcast Perché dopo il kebab Non stai tanto bene Questo possiamo dire Questo è giusto Dipende Io amo gli integristi islamici E quelli che mangiano kebab Quindi assolutamente È un pensiero loro No ma anche noi Anzi Tutta la vita Già partiamo Già partiamo con le dichiarazioni forti Bene Giorgio Io comincierei con la prima domanda Che è una domanda Che viene da un pochino da lontano Tu in Nibiru Torniamo Uno dei primi spettacoli Di stand up comedy Il primo Il primo Dici Di essere un figlio Non voluto Ok Te lo ricordi quel pezzo lì Eh beh L'ho scritto io Però comunque sono passati Quanti anni 13 anni Era pure legittimo Che qualcosa 13 anni 13 anni Tanti 2010 14 adesso Domanda Ti senti ancora Un figlio non voluto Ma non solo Ovviamente questo Dal lato familiare Ma dal mondo Dal mondo Dallo spettacolo Dall'Italia Che domanda Subito la domanda Strappa a cuore Eh sì Prima di tutto Sono morti i miei genitori Quindi ormai Non potrei più Sentirmi Invece volendo Stappiamo Andiamo proprio nel trash Sì esatto Ma guarda È una bella domanda Se me l'avessi fatta Due o tre anni fa Ti avrei risposto In maniera Anche veramente Oggi non me ne frega più Un cazzo proprio Lo sai Che me vogliono No Non mi sento Io Sto benissimo Con me stesso In questo momento Veramente Non ho nessun tipo Di problema Di divarsa O di piace a qualcuno Devo le piacere Se devo dire Di maturazione tale Per metà Per carità Per carità Comunque sono stato male È stato un lungo periodo Inattivo Ho fatto due mesi Di ospedale Per colpa De una polmonite Che è stata Quello che l'ha scaturito Ma in realtà Per colpa È la mia condotta Di vita Dissoluta Per anni E quindi Quando mi sono svegliato Mi sono riappropriato Un po' Di quello che ero io Tanti anni fa Da un punto di vista De lucida E De chiarezza emotiva Ma con una pace Interiore Diversa E cioè Tutta questa Questa gente Che si ammazza Una con l'altra A chiacchiere Questi Stimi Cragnosi Che stanno lì A A cercare Spodestarsi Uno con l'altro E io Sono un po' pentito Da averne fatto parte Per un periodo pure Tra l'altro Perché Non c'ho proprio bisogno Di dimostrare niente a nessuno Quante inutili galline Che si affannano per niente Si azzuffano per niente Come direbbe Franco Battiano Esatto Che era Povera patria Sì Dovrebbe essere Non ricordo Non voglio dire Forse sul ponte Svento la bandiera Abbiamo forse Battiera Il maestro Franco Battiano Scalambro Battiano Comunque colgo La palla al balzo A proposito Che hai appena detto Dopo il risveglio Questa parola Magica chiave Visto che sappiamo Che appunto L'anno scorso Ti è successo questo Chiamiamolo fattaggio Sette mesi fa Siamo Sei stato comunque Come hai detto Anche tu Due mesi in ospedale E appunto Ti volevamo chiedere Qua a Roma tra l'altro Qua a Roma Sì Quindi potremmo Stavo girando un film Con Maccio Capadonna Stavo girando Il milione dei mondi A tre giorni Ne ho riprese Stavo qua Fa provo che stumi Lettura Copione Eccetera E Mi hanno portato in ambulanza Non respiravo più Noi ti volevamo domandare Appunto A proposito di questa Chiamiamola Infelice esperienza Quando ti sei risvegliato Ti ricordi qualcosa Qual è stata la prima cosa Cosa hai pensato Qual è stata l'emozione La sensazione Le primissime cose Se ti ricordi Se hai un ricordo Di tutto questo Per forza Non lo so svegliato Allora voglio scomprare Il campo Innanzitutto Da una cosa Io non ho visto Un cazzo Né tunnel Né luce Né padre eterno Né padre pio Non ho visto Un cazzo E questo è già tanto Giorgio Dice molto Comunque Che le cose Vanno bene Stanno certe Più che altro Voglio sapere Che cazzo Non ho visto l'altro Più di due mesi De gomma C'era io Schumacher Che si è fatto peggio Che voglio sapere O Schumacher Schumacher Sognava te Giorgio Tu sognavi Schumacher Non lo so Ci sta chi fa Due giorni De gomma E già si sveglia Ha visto Francesco Moser E io invece Non so perché Moser Però Salutiamo Francesco Moser È morto Non lo so Forse chi è Salutiamo Moser E la paricina Non l'ho Beh quando mi sono svegliato C'ho avuto Un po' di tempo Ho capito Stavo Perché stavo lì Perché Tra l'altro Non è come Te svegli il giorno dopo Che dici Oh fammi mangiare Mi hai avanzato un pezzo De torta di ieri Me la mangio Ma in frigorifero Non ce la trovi Perché è passati due mesi Quindi Nel frattempo Era morto pure Berlusconi Cioè io Vado dormire Non ti sei voluto godere L'esperienza Vado all'ospedale Che era vivo Per sveglio Che era morto Cioè tante cose Ho cambiato nel frattempo E È uno shock È uno shock Devi anche prendere Qualche pastichetta Per forza Per non Andare in depressione Perché si è stato in coma E eri morto E ero morto Ero morto Mi volevo fare Le estremuzioni Ma non potevano Perché sono sbattezzato Solo per quello E Davvero Questo Tutti sempre in Nibiro Se non sbaglio Sono sbattezzato Sì Ma che volevo fare Le estremuzioni No Quello non potevi Quello è impossibile No Le dico sempre Sbattezzato E siccome sono rimasto Sbattezzato Quando sono andato A farmi le estremuzioni La mia compagna Mi l'ha impedito Perché Guardate che è sbattezzato Perché Tra l'altro Il paradosso Qual è Che sono andato In un ospedale cattolico Quindi tutte suore Cioè Una suora nera Che Una suora nera Che comandava Ai bianchi L'unico posto Al mondo C'è un nero Che comanda Tutti i bianchi Sotto E ci stava Stasora nera Per le preghiere Tutte le mattine Stavo in coma In reanimazione Quindi non lo sentite Domanda Ma Quando sei svetta Hai pensato Che Dio esistisse Oppure sei rimasto Esattamente Sulla stessa Ma guarda Io so che Mi hanno curato i medici Tutti i medici Sono grazie a Dio Grazie a Dio Però Mi hanno portato In ospedale Mi hanno curato i medici Grazie a Dio Mi pare fuori luogo Però Che te devo dire Tutti quanti Ah ma grazie a Dio Ce l'hai fatta Dico Allora i medici Perché non mi siete portato In una ferramenta Grazie a Dio Quanto caso Mi ha portato in ospedale Però Non lo so Grazie a Dio Mi ha portato in ospedale Comunque sto Favendo lo spettacolo Di stasera Infatti Andiamo 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 Oltre Comunque Rispondendo alla domanda Un gran senso D'angoscia E un gran senso Di serenità Angoscia Per la mia famiglia La mia famiglia Ragala Fratelli Ma Tutti i miei amici Ma soprattutto Mi figlia Che è piccola E La mia compagna Cioè È stato Adesso mia moglie Perché mi sono sposato Nel frattempo Non so se lo sapete Sì sì Abbiamo saputo Sono rimasto molto offeso Perché Non c'è invitato Non c'è invitato È stato malissimo Se c'è il secondo Quest'anno Non c'è invitato Abbiamo amici attori Che non c'è invitato Io sto malissimo Ma l'ho invitato Non è che ho fatto Non è che il matrimonio Ho 19 anni Che ho invitato 600 persone Ramo 100 No lo so Lo so Però comunque Vederti lì Con lo spirito Ero mamma Io vi ringrazio Perché Dopo questo fatto È successo Che Ho voluto suggellare Questo mio rapporto Perché non mi ha cacciato De casa La mia compagna Dopo anni e anni De testa sfasciata mia Quindi La preoccupazione Per quello Ma poi La grande Felicità L'ave Superato È come se Avessi scalato Mezza montagna E me ne mancava Solo mezza Perché Ho scavalcato Mezza montagna Di Disintossicazione Da alcol Sigarette Droghe E Ho perso 30 chili Capito Perché per me Era un Everest Da scalato A me ne rimane Di 30 da perde Però Ho riguadagnato In salute Un'altra consapevolezza Per l'altro Sto bene Sto proprio bene E ora mi sento Che sto bene Capito Tutti prima Dice Non si capisce Il cazzo Quando parli Mi rendo conto Adesso Per come parlo Adesso Che era vero Non si capisce Il cazzo Prima Capito Perché Pure Non so Vabbè Comunque No no Guarda che è una cosa bella Che stai dicendo Perché Essere a un certo punto Consapevole Di quello che ti era successo Adesso ti porterà avanti Molto meglio Perché Il nostro mestiere Il comico Ma in generale Qualunque cosa fai nella vita Quando fallisci O quando fai qualcosa di sbagliato E te ne rendi conto Allora lì puoi Fare qualcosa in più Se non te ne fossi reso conto Probabilmente Uno pensa È spiacevole In sé L'episodio Ma Nel complesso A me mi ha salvato la vita Certo La bravura Sta anche nel fare bagaglio Di tutto Eh beh Se adesso Mi facessi la stessa cazzata Giusto che morio Devo morire Perché No ma non lo farò mai Non è scontato Piuttosto lascio perdere A fare sto lavoro Piuttosto No ma è vero Piuttosto lascio perdere A fare il comico E vivo in famiglia Vendo Cioè faccio cinque spettacoli L'anno E scrivo un libro Ma non metterò più Il repentaglio La mia vita La mia famiglia Lo so che sembra Poco da montanini Questo No no In realtà In realtà Ho letto Non ti sei scritto al PD Ancora Cioè No no Non c'è La testa La testa Non c'è Però Un pezzo D'Oscar Wilde Che aveva Pure le citazioni Mi faccio da omosessuale No No Non se vuoi Di manco omosessuale Di progio Di progio Di progio E poi comunque Sono diventato uno dei vostri Sono anche io Omosessuale Perché fumo questa Sei uno di noi Sei uno di noi Da qua All'omosessualità È un altro È un passo Amore Amore Sai che è la cosa Segnerà Non c'è avuto un ictus Segnaleranno Il fatto che io Ho parlato Dell'omosessualità Sproposito eccetera Ecco Io Posso andare in coma Dieci volte Svegli a me dieci volte Ma non accetterò mai Sto politicamente corretto De merda Non si può più parlare Nessuno Io dico Quello che cazzo Mi pare Continuo a dirlo Sempre Ma infatti Saremmo stupiti Sulla parola omosessuale Saremmo stupiti Infatti Perché l'hai detto Procio Dovrebbero essere I primi omosessuali Non cazzasse Perché se vogliono Cercare La mente De essere alla pari Con tutti Perché la legge La messia alla pari Devono cercare Non ghettizzasse I loro primi Perché è quello Che stanno facendo Purtroppo Ma l'autoreferenzialità Non è omosessuale Come i femministi Sono La causa Del male del femminismo Questo l'ho sempre pensato Perché Bisogna lottare Che succede? Pensate che già Vuoi dettagliare? Ma questa è una cosa Andrebbe spiegata meglio Ma poi non mi fai un cazzo Se lo capisci La gente lo capisce Ma guarda Cambiamo completamente Argomento Tu prima hai parlato Di tua figlia Chiudete il podcast Prima ancora Tu hai parlato Di tua figlia Giusto? Sì E' una cosa che Mi sono sempre posto Come essere Un comico Che sul palco È ritenuto Un comico Feroce E poi Avere una bambina Quindi relazionarsi Con un essere così Piccolo Fragile Dolce Che comunque Immagino abbia pochi anni Non sia grande È proprio una bambina Com'è Com'è diciamo Com'è il Com'è il papà Giorgio In una certa maniera Ma io so Un comico Non so il tirano South Rex Cioè io sono un comico Sono un artista La ferocità La ferocità La ferocità La ferocità Sul palco Eccetera Una persona Butta tutta la merda Che c'ha sul palco Proprio per essere Una bella persona Nella vita È proprio quelli Che invece reprimono Tutto il giorno E che dopo Si comportano male L'individà Io Ringrazio Dio Riesco A essere Comunque Una persona Dopo Nella vita privata Completamente diversa Da quella che vedi Sul palco Non nei pensieri Ma nell'atteggiamento Sul palco Leggi un personaggio Certo Cioè un personaggio Perché devo difendere Un certo tipo Di approccio Con la comicità Ma quello che dico Lo rivendico Ma poi non è che Io nella vita reale Con mia figlia Dico sborra Capito No no Però Comunque è bella Da precisare Perché il pubblico Partito di quello stesso Ma non è quello Bestemmio Mi figlia Non ha mai bestemmiato Non dice le parolacce Eppure io bestemmio Cioè anche sta cosa Proprio lo sdoganare Le parole Se tu Io con mi figlia Bestemmio tranquillamente Ma non faccio mai Io lo dico come intercalare Certo E mi figlia Non lo sente Se io dicessi Biglietto del tram Mi figlia Urlerebbe Biglietto del tram Perché Come dici le parole Se le carichi di violenza Quella parola assume Un significato Per un bambino Fuori Dici Cazzo E' sempre tranquillo Quando dice quella parola Significa che succede qualcosa Allora dice quella parola Magari in maniera Non è La bestemmia in sé E' come la dici Siccome la gente bestemmia Una volta ogni tanto Quando bestemmia E' una carica di violenza Il bambino Che non si deve mai La bestemmia Te bestemmia Capito? Certo Io che bestemmio Tutti i giorni 20 volte al giorno Mi figlia non bestemmia Ma hai fatto in vita sua E certo Questo fa parte sempre Del depotenziare Per tutti quelli Che c'hanno i figli Che bestemmiano Non sapete Per i genitori Diciamo Sappero questa cosa Vabbè comunque Andiamo avanti Con la prossima domanda Ti volevamo domandare Perché appunto La prima volta Che ti abbiamo intervistato L'anno ormai Sto in tuta Ma inquadrano pure le gambe Sto pure in tuta Scusate Vengo da un viaggio Se c'è uno spettacolo Ma pure Tony Soprano Era sempre in tuta Quindi c'è nel senso Non è che sto a parlare De potere Sul fatto che C'ho più o meno potere Non c'è niente Il potere Me lo vorrei un attimo Giustificare Con il pubblico Con il pubblico Con il soprano Che cazzo non mi ha da fare Per il potere Per i cognomi Ma no perché Andavano in giro Spesso i itali americani Hanno sdoganato la tuta Questa è una cosa Vabbè Una cosa tipica I itali americani Tutti gli altri Non se la mettono La tuta Comunque Lo pensavo Scusate Per un viaggio Sei comunque bellissimo Giorgio Grazie Grazie Fa parte dell'avanza Che io ti faccio sempre Ho questo Disabilitare i commenti dopo Ma schifo il cazzo Fare un ciccione Ma che è sto merdone Comunque Appunto Quando ti abbiamo intervistato Per la prima volta Abbiamo avuto anche modo Di parlare Delle tue esperienze Nel cinema Del fatto che era anche difficile Per noi mentalmente Immaginarci Giorgio Che è comunque Una persona libera Anarchica Seguire gli orari Fissi Svegliarsi alle 6 di mattina Questa cosa è cambiata Il tuo rapporto con il cinema Adesso che c'hai 4 film Hai girato anche Enea Appunto Come è andata Sei riuscito a Non aver più Conciliare Come all'inizio Oppure ormai Ti sei proprio abituato Per te il cinema Ormai vai proprio liscio No Beh dopo Io quest'anno Ho 4 film in uscita Nel 2024 E ne ho girati 7 In un anno e mezzo Alla fine Devo dire che È un mondo in cui Ho trovato il mio spazio Il mio modo di fare Il mio modo La mia disciplina L'inizio è stato difficile Poi Mi sono disciplinato molto Quindi no Mi ci trovo un sacco bene adesso Devo dire Enea sta uscendo adesso Infatti devo dire Stava uscendo È uscito l'11 gennaio Race for glory Enea Race for glory Con Daniel Brühl E Riccardo Scamarcio Gli altri due invece sono Che dovranno uscire Li puoi dire Oppure sono ancora Nonostante Che è l'ultimo film Di Valerio Mastandrea Con Laura Morante Ma è lui come regista Oppure Lui regista e attore Ok Ma mi ricordo La sua opera prima Quella di Valerio Seconda Che ha fatto Valerio Non ricordo Mi sembra un documentario No Ho fatto un film Con la sua compagna Ah è vero Che andarono in Russia A prendere il premio E poi ho fatto Enea Race for glory E Castelrotto Che è invece un film Con Giorgio Colangeli Fabrizio Ferragane Ambientato Nelle campagne marchigiane Quindi si è sentito a casa Sì Beh giravamo proprio a casa In marchigiano E Giorgio Colangeli Che è romanissimo Che ha fatto anche il film Della Cortellesi Recita in marchigiano Incredibile È bravo Giorgio Colangeli È strepitoso Ciao Giorgio Ti voglio vedere Ciao Giorgio Il dialetto L'ha replicato bene Perché non è facile Clamorosamente Clamorosamente Il professionista Giorgio Colangeli Giorgio Colangeli L'attore della Madonna C'è una roba allucinante Castelrotto E Damiano Giacomelli Il regista Ce l'ho questa curiosità Perché io appunto Anch'io recito Sono campano E purtroppo il dialetto Tante volte il cinema È un limite Perché mo' c'è la dizione Vogliono che si capisca No 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 Tu devi parlare Io non ho mai parlato In dizione In vita mia Certo È orribile È una cosa Perché si è sbagliata No ma no In dizione nei film Non si può fare Se manca a teatro Si usa più No no Da quella patina Di irreale Completamente finto Al limite Nella tragedia greca Ancora si mantiene Ma Io ho fatto di pure 15 anni fa Ti assicuro che lì pure La usavamo ma L'avevamo un po' Sgrezzata anche Senti Giorgio In Enea Che ruolo hai? In Enea Sono Il cattivo del film Diciamo perché Sono Uno dei Villain Del film Come ti senti Villain? Beh non ho fatto mai Il buono in un film Io quindi Sono stato in galera Sono stato Però I predatori Il film Il predatori Il più delinquente Secondo me Non è cattivo però Il tuo personaggio È solo una merda Lo sai come A me è piaciuto Sai una cosa A me è piaciuto molto Che ha detto Pietro Nell'ultima intervista Con Tinti e Rapone Che Per spiegarti il personaggio È stato semplice con te Per chi ha detto Tu devi immaginare Diventare una stanza A questo Quello che ricordo E devi immaginarti Questo personaggio Cerca di mettere a posto qualcosa Ma non ci riesce Su dieci persone Chi è che sa giusta Sta cosa E ci sei sempre tu Che dici io E poi lo distruggono E poi la lunghe Quello che Viene col fuoco E a me è piaciuto molto C'è bisogno di emergere C'è bisogno di trovare Il suo spazio In un mondo In cui Vieni fagocitato Capito Quindi non era esattamente Un cattivo Il personaggio dei predatori No Però Non era un cattivo Ma non si comporta bene Però era una vittima La vittima della sua famiglia Vittima e carnefice Perché poi Allo stesso tempo E anche molto carnefice Però Perché poi Non diciamo come va il film Anzi Vedete i predatori E Enea Perché Pietro Castellitto È È un nuovo È il nuovo È l'assoluto L'avanguardia Culturale E ha detto un'altra cosa Pietro A proposito Sempre l'intervista A Tinti Rapone Ha detto Questa cosa molto bella Che i comici Spesso e volentieri Sono molto bravi Come attori Perché sono Abituati All'umiliazione E io ti volevo chiedere Giorgio A questo punto Qual è stata La più grande umiliazione Che ti è successa Lavorativamente Poi nella vita privata Se vuoi dircela Bene Ma Nella vita privata Sono cazzi pieni Esatto Infatti non volevo No Nella vita privata Te lo dico Fasse pure il culo 46 anni In ospedale A due strade Poi Suore Poi Suore No Te dico ripeto Suore era a capa Ah solo lei Che altri erano Ero lais Devo ringraziare Infermieri e dottori Vannini di Roma Veramente Angeli Perché mi hanno salvato La vita A me Agli altri sopporti Non sono infallibili E comunque No L'umiliazione sul palco Ma guarda Le umiliazioni Nella mia vita Artistica L'ho conosciuta Tantissimo All'inizio Capito La gavetta È stata tremenda Quando tu Stai davanti A un pubblico Io ho incominciato Anche a avere Il rapporto Col pubblico Adesso Molto più disincantato Meno morboso Pretende di poter piacere La gente È l'errore più grosso Che poi fa E quindi Mi sono reso conto Che a volte Stavo a cercare L'impossibile Capito A cercare di piacere A certe platee Ma se deve andare a fanculo Chi non gli piace Non gli piace Chi gli piace Gli piace Benissimo così Quindi ho fatto Tanta fatica all'inizio Perché mi volevo imporre Con un pubblico Che non potea piacere Quello che facevo io Ero io che stavo Nel posto sbagliato Nel momento sbagliato Capito Però quello mi è servito Tantissimo come forma De palestra Come forma Quella che non c'hanno I comici di oggi Io e Pietro Stiamo facendo Sono parecchia Lo posso dire Ho parlato dei comici Molte interviste Tra lui Anche con la nostra Io mi ricordo L'intervista con Mico Ronchi Quella che hai fatto Su al nord Con come sei Ragazzi Gli Arcade Boys Gli Arcade Boys Che grandi Sono grandi Unque l'intervista È molto bella Posso dire Sono rimasto Molto invidioso Perché l'hanno fatta Poi c'era pure Micole E vabbè Micole è bellissima Salutiamo Anzi verrà A trovarci il 27 Micole Ciao Micole Ciao Micole Tra l'altro ecco I comici di adesso Spesso e volentieri Vivono solamente Di social Di social network Di Un modo Un modo Di approcciare Anche alle volte Come si può dire Virtuale Virtuale Ma anche un po' Allisciando Il pubblico In una certa maniera Assecondando Determinate Io non ti voglio chiedere Cosa ne pensi Perché il pubblico Chi ti conosce Sa benissimo Già lo sa Però Un consiglio In amicizia Un consiglio Un consiglio Chiesto a voi Ma non richiesto da loro Guarda Questo è lo stesso Alle nove lele Con quelli che vogliono Avvicinarsi alla stand up E alla comicità in generale Ma che non hanno ancora Fatto quel passo E che magari Quel talento Ce l'hanno Ma quel talento Ce l'hanno Chi lo sa Devono scoprirlo Facendo palco Devono fare tantissimo palco Questo sono completamente d'accordo Non Essere schizzinosi E soprattutto Devono ingogliare Quella buonissima dose di merda Che per forza Deve ingogliare E se Io Non ho ingogliata Qui in Italia A tonnellate In Italia come me Oggi Non c'è nessuno Per dispersione Scusate Però Anche la modestia Non mi appartiene Non mi appartiene Neanche a quel com Ci conosciamo Neanche a quel com Esatto Se so il numero uno Indiscusso Ancora adesso Dopo sette mesi Di com Dopo sette mesi Che non stai Sul palco Non c'è traccia De qualcuno Che possa Essere all'altezza A parte voi due Naturalmente Chiaramente Ovvio Forse un giorno Il motivo qual è Tu dirai Oh ma Qual è Tu credi di essere Adesso è il numero uno Se trovate un comico Più bravo italiano Mettete il link Nome e cognome Il link del monologo Lo parlo con un monologo mio E venate a fanculo voi E tutti quelli Che vengano a vedere Ma guarda Ci abbiamo provato Ma niente Non se ne vanno Non se ne vanno Vabbè Se lo trovo Qualcuno dice Oh guarda lo so Perché questo è il migliore Aspetta C'era uno Richie Cervé Però aspetta Mi sa che non è italiano E poi Su Richie Cervé Puri c'è le mie riserve Ma ultimamente tanti Stanno No è che Comico Vabbè Un giorno Facciamo una dissertazione Facciamo una dissertazione Il motivo per cui Non piace a me tantissimo Ma non perché Però Basta prendere Un monologo mio Qualunque E mettiamo con Altri comici italiani Che vi pare Lo mettiamo E paragoniamo Che dopo le chiacchiere Sta a zero Imparagonabile Ma dai Questo lo sai Quindi La cosa è Allora Quello che vedo È che ci sono tante visualizzazioni Ma poi Pochi biglietti venduti Esatto Tu Fai anche Milioni di visualizzazioni Ma se poi La visualizzazione È facile Perché Premo Metto mi piace Zero impegno Lo faccio Con i bandarocini corti La maglia sporca De brodo Qua De sugo E mi piace Sto comico Mi piace Un milione di visualizzazioni E poi Ci sta Live Cioè quello che il comico Deve fare veramente Andare sul palco Sul palco Devi vendere i biglietti I biglietti come si vendono Se vendono È attraverso Uno che clicca Con la carta di credito 20 euro 30 euro Vai a ridere il biglietto Il giorno prima Se vai al brancaccio Il giorno prima E con questi numeri Vedi che dopo Fa un milione di visualizzazioni E fa 2000 persone 1500 persone al brancaccio Ci passa alle mezzo 30 anni di carriera Capito? Certo Giorgio Ma Visto che hai 30 anni di carriera No vedo Tanti fenomeni Ma comici Da nessuna parte Capito? Comici da nessuna parte Invece sarebbe il caso Che Se mettessi sotto E facesse Tantissima gavetta E Meno chiacchiere Capito? A proposito Te hai detto 30 anni di carriera Tu in questo momento Ovviamente fai cinema E stai lavorando Con persone molto giovani Perché Pietro Castellitte Del 91 Poi ha lavorato anche Con Guarascio Con Giorgio Guarascio Tutti i fenomeni Guarascio Perché Guarascio? Ah no Giorgio Guarascio Giorgio Guarascio Mi perdone A me A lui No no Lui non ha fatto in occhio Perché stiamo parlando Diciamo Giorgio Guarascio Giorgio Guarascio E Ti ricaricano O sei tu che ricarichi loro? Oh non lo so No penso che sia Sta domanda Però ecco Un po' Non me l'aspettate Questa è un po' Alla Marzullo No penso che sia La contaminazione In generale Penso che non nessuno Non è Non c'è un par Non lo conoscevo Non lo conoscevo Però ho conosciuto Giorgio Io voglio un bene enorme Perché mi piace tantissimo È una persona meravigliosa Quindi assolutamente Non lo conoscevo come cantante Ma l'ho conosciuto Tutti il set È una persona stupenda Siamo stati benissimo Ma avendolo scelto Pietro Per me Pietro non sbaglia un colpo Quindi Sì potrà avere un amico stronzo Ma non lo conosco Ma non è Giorgio Quindi Hai fatto l'esempio di Pietro e di Giorgio Pietro in particolare Perché Ho un sodalizio più lungo Io Lo stimo infinitamente Più giovane non importa È uno che ha dimostrato Anche se è più giovane Essere artista È un livello Adesso è il numero uno Secondo me No ma Xavier Dolan Che è uno dei registi Più grandi Canadesi Ha cominciato a fare film A 16 anni Quindi non vuol dire assolutamente nulla C'è gente che fa da 40 anni No poi La gente ma ripensa Perché Pietro È figlio di Sergio Perché cazzo vuol dire Non gli dai soldi a uno Per fare quel film Perché è figlio di Sergio Se no 11 milioni non gli danno a nessuno Eh ma dai Perché è un genio Un grande Tranne per fare Baria Però vabbè Lasciamo perdere Baria è tornatore 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 non è perché Fio di tornatore No è Fio di se stesso Pietro ha dimostrato Essere Un fuoriclasse Quindi è giusto È un fuoriclasse Dopo Tanto i fuoriclasse Che succede Stanno sul cazzo A un 50% delle persone Perché C'è una polemica Che noto In internet Sul fatto che sia Un film borghese Questo è una cosa Che gli Questo è una cosa Io non l'ho visto E ne è un film borghese E ne ha Questo Gli danno C'è questa Polemica Che stanno facendo Abbiamo detto Anche la recensione Di Christian Raimo Non so se Non so se lo conosci Lui e anche vari altri Lamentano questo fatto Che appunto Al di là della qualità Del film in sé De la bellezza o no E che la sensazione Che uno potrebbe avere Conoscendo anche appunto Pietro Castellitto Figlio di Sergio Eccetera eccetera E che appunto È una critica Che viene fatta Alla società borghese Ma dal suo interno E poi ripeto Noi Riferiamo quello Che c'è scritto Quello che abbiamo Che abbiamo letto Quindi Quindi Scusate A parte il fatto Vabbè Faccio un esempio Sai che Ma lo faccio lo stesso Perché che cazzo Me ne frega Perché su internet Robespierre era un borghese La rivoluzione L'ha fatta La borghesia sempre La rivoluzione Non è mai partita dal popolo Il popolo è stato usato Come strumento Quindi se ti aspetti Che il popolo Faccia la rivoluzione Te sbagli È sempre la borghesia Che parte Gli intellettuali Ecco Quindi Parte questo Ma che vuol dire Dal suo interno Beh Più facile dal suo interno O più difficile Più difficile no? Critica il tuo mondo Pietro è uno che critica In maniera aspre e feroce Il suo mondo Eh Se sono cazzati tutti Perché ha detto Roma Nord È il Vietnam Ha fatto una metafora Il Vietnam Non ci sia mai stato Ma bisogna spiegarlo Bisogna spiegarlo Ancora oggi Che ha fatto una metafora Eh C'è questa gente Che sta su internet Ma Massimo Roma Nord È per i filippini Non dei vietcong Ma non C'è dei filippini Che stanno in casa Ma perché Pietro Senza Usare il filtro Che serve Con gli analfabeti Capito Che doveva dire Sembra il Vietnam Da un punto di vista emotivo Pietro non parlava di Vietnam Da un punto di vista De vita Come se fosse Calcutta Ma un Vietnam emotivo Dove la borghesia De distrugge Quella patina Di ipocrisia E di convenzione Di apparenza Che Pietro Rifugio al 100% Io e Pietro Siamo amici Veri amici Profondi E mi sembro borghese Io? No Non penso che Pietro Sia uno borghese Fa un film Pietro fa un film borghese Ma chi lo dice è scemo Non capisce il cazzo È un pregiudizio Ah questo era il messaggio Appunto Poi uno può dire Per me è un film borghese Io ti posso dire Guarda Non hai capito un cazzo Non ti piace un condo Ma se tu ti avventuri Nel giudizio proprio Dici un film borghese Allora non capisci un cazzo Eh Perché se dice un film borghese Capisci un cazzo Che Pietro venga Dall'ambiente borghese Bravio Oh no Lo nega No lui lo nega No è proletario Sotto proletariato di Monti Dai su che cazzo Sai che Questa è proprio L'ana caprina Lascia il tempo Che trova No è la polemica Ma tanto sta polemica È quella che gli fa Ancora più Gli fa più gioco Fortunatamente Perché Sto mondo è assurdo Ci sta bannaccio Che Un generale Che parla Di Di omofobia Che cazzo Compra tutto il libro Che tu aspetti Che deve parlare Un generale Quando parla L'omosessualità Che te deve dire Viva l'omosessualità Oh apriamo l'esercito Ai froci No Sarà omofobo E tutti i quali Si scandalizza È un generale L'esercito No poi tra l'altro Non solo omofobo Ma anche omosessuale Ma sicuramente Sarà omosessuale Sì sì Represso Avanna Eh dillo Un saluto Avanna Un saluto Scusa No 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 Io sono per l'esercito Italiano E soprattutto Per i servizi segreti Non voglio Pasticche di Gianuro Allora faccio fare Un attimo Una domanda A Giovanni Bellotti Vieni qua A proposito dei comici A proposito di vannacci No no Volevo fare domanda Allora che cazzo Vuoi Dici Dici Era per dire Ciao Giorgio Piacere Di rivederti No di vannacci Era solo Sono competente D'accordo Vogliono Il comandante Che dice Ragazzi Tutto l'attacco C'è lo vuoi omosessuale La gente Tanto si ammazza Ragazzi Quelli con la tuta rosa Prima Soprattutto perché ti stupisci Se il mondo del calcio È omofobo Il mondo del calcio Tutti quanti Se mettono il coso rosso Qua contro Contro il femminicidio E non ci sta un gay Nel mondo del calcio Può essere Mi piace tutti la figa I calciatori Tutti Tutti Però Non ci sta Però Su È la cazzata Bisogna vive Vai Perché ti vai via Non c'è una domanda Ve lo rispondo alle battute Vuole essere Vuole essere Vuole essere C'è una domanda C'è una domanda C'è una domanda Cos'è La cosa che ti è Mancata di più Da mangiare Quando ti sei svegliato Sì questa è una domanda Beh questa è bella Mi è mancato Tutti il bitter Campari con prosecco Da mangiare però Era estate Quando mi sono svegliato Era estate Io sono andato in coma A maggio Mi sono svegliato A luglio E era un pranzo De pesce A Porto San Giorgio A fermo A casa mia Quello appena sono tornato Ho mangiato Ho fatto un pranzo De pesce Quindi il pesce Sempre a proposito Di generale Vannacci E tutto quanto E invece Giorgio Ti volevo fare una domanda Che partiva anche appunto Sempre ritornando su Pietro Castellitto Il vostro rapporto Eccetera Perché lui Durante l'intervista Con Tinti e Ravone Appunto Parlando anche Di te Del rapporto con te Diciamo tu Dai un'immagine di te Tu sei anche così Sei una persona di cuore E certe volte Accetti Gli argomenti Con proprio Gli tagli Sei una persona comunque Chiamiamo Diciamo feroce Sul palco Però chi ti conosce Io e Vincenzo Anche abbiamo questa sensazione E Pietro la conferma Comunque tu Sei una persona Sei un artista Sei una persona molto sensibile E dal mio punto di vista Sei un buono Tra virgolette Tu Ti senti Ti senti più un cattivo O un buono Nella vita Se ha senso per te Questa distinzione No 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 C'ha senso Non lo voglio Non lo voglio Non lo voglio Non lo voglio Sono cazzi miei Nel senso Che la gente Se non lo capisce da sola Sono problemi suoi Cioè Posso spiegare comicità Sulla comicità Posso parlare Penso di capire Parecchio Più del 99% Di italiani Questo che dici tu Potrebbe essere Una bella domanda Ma non voglio offendere Il pubblico Rispondendo Capito Ti ringrazio per la domanda Ma è implicita la risposta La faccio in una maniera Differente No ma non perché Sei una brutta domanda Sarebbe brutta Solo la risposta Perché sarebbe Non so se mi spiego Sì 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 Non è che la domanda Mi piace Ma non voglio rispondere Perché È giusto che È giusto che sia stata fatta Ma la risposta sarebbe Non è per un pubblico Intellicente Capito Guarda Te la posso Riformulare In un'altra maniera Il sogno Di ogni buono In qualche maniera È di apparire cattivo Questo è Marzullo Più di prima Eh sì Questo è super marzulliano Guarda Io non penso che uno Possa essere buono E cattivo Amo così In maniera In maniera Netta tagliata Per carità Posso dire che Nel mio essere cattivo Sto cattivo Nel 90% Con me stesso Quando ho fatto del male Ho fatto del male Il 90% A me stesso Il 10% Come effetto collaterale Però gli effetti collaterali Sappiamo tutti Che pure gli americani Fanno gli effetti collaterali Con la guerra E non sono buoni Che ammazzano i bambini Quindi anche gli effetti collaterali Di chi si comporta male È una mancanza di rispetto Che io ho vissuto Sulla mia pelle E della quale Mi pento Faccio ammenda La cosa che deve fare Una persona che Come me ha vissuto Certe esperienze È quella che deve fare Ammenda Ammenda con tutti quelli Con i quali ci ha avuto A che fa In un periodo Della propria vita Non che io abbia avuto Sempre torto con la gente Eh No Però Molto spesso Potevo avere ragione In maniera più semplice Piuttosto che Dove me scontrare sempre Per colpa anche Di una mia situazione emotiva Molto grave Cioè io Per esempio Con i ragazzi di Satiriasi C'ho avuto Qualcuni dei problemi Che potessero essere più risolvibili Altri Cioè Io posso dire oggi Per esempio Filippo Giardina Gli voglio più bene De tanti altri Con i quali Cioè Hai detto una cosa Gigantesca Gigantesca Questa però non è Veramente Non è Arafat E Sharon Però per il pubblico Però per il pubblico È vissuta così Tu Come la vivi Tu è un conto Gli piace viverla così Ma in realtà Io e Filippo Abbiamo li tirato una volta E poi ci siamo più sentiti Per tanto tempo Soprattutto per colpa mia Filippo In un'intervista A tazza di caffè Con Giordano Folla E l'altro Sandro Cappai Quando Quando gli hanno chiesto Ma tra i migliori comici italiani Chi c'è Subito Giorgio Non ha neanche detto il cognome Ha detto il tuo nome Proprio ha detto il tuo nome Giorgio Giorgio Rabone No Giorgio Rabone No no Però ecco io In quei momenti lo vedo che cede C'ha dei momenti in cui Cede anche lui emotivamente Guarda Filippo C'ha i problemi come tutti Come c'è lui Come c'erano tutti Certo Ha vissuto Ha vissuto Questo mondo Della comicità L'ha vissuto In prima linea Come capostibite L'ha vissuto Piano Si è sobbarcato Sutta la merda Che ci siamo sobbarcati Noi che abbiamo iniziato Capito Perché la gente qua Inutile La seconda accelerazione Deve sapere una cosa sola Che se oggi Non fa le pizzerie Se oggi Non va A fare sagre Grazie a noi Che gli abbiamo sdoganato tutto Capito Se oggi Non ci stanno i comici E vanno a fare le sagre Del merda Che ho fatto io Questo è È come Chi ha scoperto L'America Che è Qual è la capitale D'Italia Ecco Roma Grazie a chi Non fate più Le serate del merda Sa di dire Capito Per questo Quindi Aver vissuto Quel mondo lì Te fa stanche Con la emotività Abbastanza Turbolenta Perché si è stato Si è stato in guerra Artisticamente Veramente Quindi tutti contro Sempre E questo Ci ha esacerbato Anche tra di noi Quando poi è arrivato Il successo Quel miserabile successo Che ci è arrivato Ci ha esacerbato E non siamo stati lucidi Né io né lui Nel questo punto di vista Capito Ma un giorno Ma l'intervista Qui insieme Ma perché no Io l'ho richiamato Ci ho parlato Lo puoi guardare in camera Invitarlo per favore Perché io sono mesi Che lo chiama Filippo Mi gosta Mi gosta Mi gosta Che vuol dire Gosta Gostare vuol dire Che non ci rispondi Non ci rispondi Ma non risponde E poi ogni tanto Facciamo dei vasi Di argille E poi intanto Lo incontro al Pigneto Saluto così Tranquillamente Però È un po' snob È un po' snob Filippo c'è questa cosa È un po' snob È venuto anche a vederci a noi È venuto al Velvet Qualche tempo fa E disse Che era passato per caso Passato per caso Ha detto così lui Stavo facendo la spesa Alle 11 di sera Filippo dai Veniamo qua insieme A fare un'intervista A Kebab Podcast Però no Andiamo in un'altra parte No 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 Siamo piacosi Andiamo in un'altra parte No te prego Al messaggero A Repubblica Rilevante Qualche parte È importante Domani a mezzogiorno C'è un'intervista a Lanza Andiamo insieme No Così vieni Filippo A casa Anche se non deve presentare niente Ah vabbè Ma per me sì Ma se che sì Ma sarebbe bellissimo per noi Cioè te lo dico E puoi fare una bella ammucchiata Qualcuno Qualcuno Daniele Fabri Stava anche al matrimonio mio Era amico proprio Alcuni Non giudo che siano Di riparlarci Con altri Non ci voglio riparlare Ah ok A proposito di questo Ti volevo chiedere Così Tamblet Ce l'hai Qualche sassolino Nella scarpa Che ti vuole togliere Che fino ad oggi Ci hai pensato Qualche tarlo Che ti rosicchia a me Nella comicità Ce l'hanno gli altri con me Io no Nella comicità Quando regni Sarò stato Un po' spietato Forse prima Oggi sarò un re Più magnanimo Però le province Devono portare omaggio Se le province Rendono omaggio All'impero Io sarò magnanimo Quindi Come imperatore Non c'ho nessuno Senti Tradito Un po' spietato Un po' spietato Un po' spietato Un po' spietato E aiutami Io ho fatto Io ho fatto dei programmi Televisivi O delle Trasmissioni In cui Mi era stata promessa Mi era stato promesso L'esercito A fianco Cioè la potenza Dell'autore La potenza Del produttore La forza Del potere Che mi sostiene E poi invece Sono stato sempre Miseramente abbandonato Quando C'era gente Molto più potente Di me Poteva difendermi Capito Mi hanno fatto passare Come il pazzo Che faceva certi monologhi Quando invece Ero stato chiamato Per quello Voluto per quello E stimato per quello Capito Quindi non tra i comici Ma tra certi personaggi De potere Che Comunque Sta a fare sempre Quello da 30 anni Se saranno pure rotti Dico io Immagino Le fa sempre L'ambonnezza Ma proprio Sassoni delle scarpe Ti voglio fare Un'altra domanda Tu conosci Il formato roast Negli Stati Uniti Immagino Domanda Secondo te Perché qui in Italia Non riesci a prendere piede E Aspetta Aspetta E nel caso Dovesse mai 2014 2014 Guarda 2014 Io faccio la prima stagione Di un amico pubblico Nel 2014 C'era ancora Zelica Nel 2015 L'allora direttore Sì Remondo Vianello Andrea Vianello Grandissimo Perché c'è avuto Un sacco di coraggio Mi chiede Un'idea Per un altro programma Che voleva far Mi voleva far condurre Un'idea E io proposi Il The Roast No? Io lo spiegai E lui Lui mi dice Questa risposta Non si può fare in Italia E io perché? Perché in Italia Si prendono troppo sul serio Questo è vero Se tu inviti Se tu inviti Verdone A farsi insultare Come succede in America O inviti Che cazzo ne so Della valle O inviti Non lo accetteranno mai Partono querelli Invita Parenzo A farsi insultare Ma non lo farà mai Non lo farà mai Nessuno Perché si prendono Troppo sul serio Cioè Trump È stato distrutto A The Roast Immagina che ci va Renzi Ma non ci andrebbe mai? Renzi che va L'un centesimo di Trump No? Beh possiamo dire Come si chiama Se a Treju È un Roast Allora c'è andato No non è vero Non c'è andato A Treju C'è andato Giovanni Lindo Ferretti C'è andato pure Renzi Allora Giovanni Lindo Ferretti C'era scusa C'è un tumore È partito da destra Si è rigoglionito E si è svegliato fascista Ma Renzi Da sempre Ma Renzi Che cazzo problema È partito da rato Renzi Che cazzo Ma tu invece Come capostibile Ti presteresti A un Roast Ti faresti Ti faresti rostare Guarda io penso Che per fare un Roast Devi essere almeno Come David Asloff Cioè io non c'è senso Se me lo facessero a me Non penso che Potrei avere questo Chissà quale popolarità Per poter meritare Per fare un Roast Cioè Ci vuole avere Una certa popolarità Capito? Però in Italia Nel mondo della comicità La popolarità ce l'hai Ah nel mondo della comicità Un The Roast Solo per i comici? Sì Vabbè Come ti senta? Perché non lo può fare? Scusami Se facessero The Roast E mi facessero A me Quello che mi fanno il culo No? Me l'hanno fatto gratis Tutti i stanni Su internet Perché C'è più i soldi C'è più i soldi Capito? Cioè mi hanno insultato Mi hanno detto tutti i colori Ma questa è una bella risposta Perché Se tu leggi Quello che c'è scritto Allora A differenza dei certi comici Che fa la pubblicità Nella Lavazza Io Non potrò mai Fare la pubblicità Nella Lavazza Perché se io Faccio pubblicità Nella Lavazza Nella Lavazza Nella Lavazza Non so proprio Uno che Trasversale Che unisce Eccetera Però Se tu ve leggi Il tenore dei commenti Come su internet Un tempo mi dice Incazzavo E ci combattevo E ma Ormai Anni che non me ne freva più cazzo So Tutti slegati Da quello che tu stai a fa lì Cioè Stai a fa un pezzo comico Se tu dici Drogato Umbriaco Cicciole Ma sto a fa un pezzo comico Ma dimmi se te falite o no E perché Casomai Te falite Non te falite È lecito Ma drogato Ciccione Umbriaco Ma che cazzo c'entra Nulla Niente Però Te colpiscono Per far male Ma se loro Non capisco che Loro Se io faccio sto lavoro No È perché io posso sopportare Diecimila commenti Insulti Come è successo con i veneti Eccetera O centinaia di commenti Insulti Perché faccio sto lavoro Lo so Loro non potrebbero mai subirlo Perché dopo tre messaggi negativi Chi che arriva così Se potrebbero subito suicidare Capito È questa la differenza Tra me e loro Tra me e il pubblico Che il pubblico Mi può insultare Quando cazzo mi pare Ah mo manco più i social Non manco Io a mo Ho andato pure i miei social Non voglio manco più Gesti quelli Non me ne frega più un cazzo Io mo Vado avanti Con quello che sto facendo Quello che ho sempre fatto E del consenso sui social Eccetera Mi sto distaccando Sempre di più Quindi Mi farei insultare Su un programma Se c'hanno da insultare Perché no Ci avrebbero mille cose da dimmi Capito Mille Giustamente Solo che Potrei essere solo io Che ho coraggio di farlo E appunto Era appunto Perché gli altri Si cagano sotto Ora sei uno dei voli Magari da l'esempio E poi magari Se muove qualcosa Non penso che Comedy Central Abbia questo tipo Comedy Central Mi pare che Vorrebbe ricreare Il nuovo Zellig E non gliela fa Perché non c'ha i numeri Ma non mi pare quello fa Dai Non mettiamo Le dita nella piaga Di Comedy Central Vabbè Tu giustamente Sto sparando la croce rossa Sì Un pochino Sì Lasciamo perdere Guarda che se tu vieni Stasera a Wishlist Do faccio spettacolo No al Brancaccio Al Wishlist Ci sa più persone Sì sì Ma sto d'accordo con te Assolutamente C'è più pubblico Vatti Uno dice Ah sono su Comedy Central Eh beh È reparto insonni Non lo so Senti una cosa Io ti vorrei fare L'ultime due domande Oh io Comedy Central L'ho fatto per anni Sì però Senti una cosa Giorgio Io voglio dirti una cosa Lo sai qual è la copertina Di Comedy Central Ci sei ancora tu Sei tu Sei ancora tu C'è un videotipo Non è perché Io non voglio fare lo sbolone No 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 Ti abbiamo detto noi Se vuoi andare al Brancaccio Il Brancaccio c'ha due serrande giganti Due serrande che si aprono Una ci sta il graffito Il disegno della faccia di Gigi Proietti Una gigante Su un'altra serrande ci stanno le icone Gli spettacoli I conici del Brancaccio Ci sta un musical Un musical inglese E poi ci sta una camicia nera Con scritto Giorgio Pontanieri Con una camicia nera No no però La camicia nera Come hai detto La camicia nera Però si sta Cioè Faccio parte di quegli spettacoli Il college del Brancaccio Sono dieci anni di fila Che faccio il Brancaccio Sono l'unico Penso in Italia Che le sta a fare da dieci anni di fila Vito Forse è l'unico comico Che se lo può permettere Ma perché Cioè Ma ora c'è Filippo il 25 Ah C'è Filippo il 25 No però io sto Vabbè No io non ho affitto il Brancaccio Cioè a me me pagano Ok Io non ho affitto Non è Perché se no Possiamo pure fare la Certo No Guarda che Se volete fare la serata Il Radio Caos Al Brancaccio Lo affittate Lo pagate Ci potete fare Ricciare i figli Certo Cioè quello non conta Immagino Non rigeniamo Il coltello nella piazza Quello è affittare il Brancaccio Io sto in stagione Da dieci anni Diverso Senti Facciamo una domanda Un pochino un po' più Leggera Allora Sì più che bab Si chiama Podcast kebab E io direi La domanda è questa Qual è stata Dopo uno spettacolo La cosa più disgustosa Che S'è stato costretto a mangiare Ma che se domande Sua merda Che fa d'India Rapone È una parodia Bravo C'è quasi preso Bravo Giorgio È la parodia Di una domanda De merda Ma che cazzo si ricorda Ma che non mi ricordo Che t'ha proprio dopo Fatto male allo stomaco Dai cazzo lo stomaco Se lo ricordo Oh sono stato male Io allora E sono stato male giovedì Ma non per rimangiare Giovedì Io ho fatto spettacolo A Reganati Sempre queste anteprime Che sto facendo Poi dove ho sta ostia ieri Ostia ieri L'abbiamo rimandata a martedì Perché sono stato male Con la gastrointeride Ma non è perché Salutiamo Michele Porcaro Che è un nostro amico Che organizzava la serata Ciao Michele Porcaro Si chiama Michele Ciao No vediamo martedì Recuperiamo Vengo là Recuperiamo No non mi ricordo Ho mangiato Non lo so Libanese No No Sincero no Perché mi volevano portare In strada libanese stasera Ma Non lo so il prorale Era lui che ti voleva portare È lui No no Pietro no Allora solo perché Una volta ci sono andato Stanno a gentire la cameriera È subito amore Io subito amore Mi ha regalato un dolcetto Che dobbiamo fare Allora l'ultima domanda Mi fate andare in albergo Fammi la doccia Fanno spettacolo Sì 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 Sono le 5.40 Si ho visto Se vuoi te Io diamo anche A farti la doccia No dai Che schifo Ma sei incessuale No purtroppo no Sarei molto più ricco Perché mi vuoi fare Perché tu Comico sessuale Io sono la falena E tu la luce Giorgio No ma tu Cima È da prima Che sta facendo avance Guarda Sono 6 mesi Che ci provano con me Guarda Ragazzi Siete respingenti Mi dispiace Non lo so Stai a fare esperienza Per cercare di capire bene Fino in fondo No perché Dopo aver letto Il mondo a testa in giù Fai come ho fatto in giardina Ficca il dito nel culo E vedi se ti fai In giardina così l'aveva fatto Ma buon mio Tagliamo tutto Infatti è vero L'ha fatto L'ha fatto un monologo pure No non ne ha parlato Io infatti anche ho fatto così Ti dicevo Con quale comincio Col mignolo no Troppo Da sfigati Ma il pollice è troppo No Volevo fatti Fatti una citazione di giardina Su un monologo No no Vabbè Se non sono emotivamente Ben disposto I suoi confronti Non so che devo fare Questa è la vera amicizia Vieni Filippo Vieni Filippo Vieni Filippo Vieni Filippo Vieni Filippo Lo aiuto a pagare l'affitto Posso Posso Scherzo Filippo Tutti ti vogliamo benissimo Anch'io ho soffrito Del dito di Filippo Giardina Non so se era questa domanda Che avevi in mente Come ultima però Io volevo farti questa domanda Perché ci tenevo Una domanda sul Giorgio Persona Qual è la cosa più folle Più pazza Che hai fatto Per odio O per amore L'odio Non mi appartiene proprio Io non odio Non ho mai odiato L'odio Posso aver odiato Certe circostanze Mi ricordo quando c'era Berlusconi C'evo vent'anni E c'era Berlusconi Lo odiavo Ma perché Più che odiavo lui Odiavo quella situazione Posso odiare Quello che succede in Palestina Mi fa ribullire il sangue È una rabbia Che però non è un odio personale Quindi non ce l'ho L'amore L'atto d'amore più grosso Come persona Non ce lo so Ci vorrei pensare Sono cazzi miei No no Non lo so Sono cazzi miei Tu non vedrai mai Una foto mia Su internet Che Mi ritrae a mangiarmi Una pizza con mia figlia Tengo la mia vita privata In maniera proprio Molto Viscerale Esattamente come fa Maurizio Battista Non lo so Maurizio Maurizio È un grande Però mette tutto Piazza pubblica Però vabbè Questi sono anche Ognuno fa come gli pare Ognuno fa come cazzi gli pare Io difendo la mia vita privata In maniera Proprio Proprio integralista Quindi Perché però è giusto Secondo me Proprio da artista Tenere la vita privata Molto 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 Riservata Per non perdere Poi il contatto Con la creatività Eccetera Devi separarle Molto bene Perché se no C'è il rischio Che tu spiattelli tutto E non si sa più Chi fa il comico E chi è il personaggio Chi è la persona reale Capito? Quindi diciamo che Il tuo successo C'è il fatto comunque Di diventare conosciuto Di diventare Di acquistare la tua fama Non è andata Non è andata a intaccare La tua vita privata Il tuo Gli equilibri Non No Questo no 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 Gli amici che c'ho Sono quelli di prima Li avevo Avevo perso Tante persone Intorno a me Perché Avevo preso Una deriva Per altri motivi Non per Per il lavoro Anzi il lavoro Mi ha tenuto a galla Se no Poteva essere già morto Non so se Giovanni Voleva Voleva fare una domanda Un'altra domanda Allora Prima ti ho chiesto Così scherzosamente Cosa avevi Mangiato Cos'era la cosa Che ti era mancato di più Perché È stata la domanda Più di cuore Perché sono contentissimo Di rivederti Veramente Grazie È bello sta cosa Devo rire Quello che parla Io sto a parlare Con Hai dovuto Una formula orrenda Io non sono qua Giorgio in realtà Qua se tu si da voce Cioè Te sta invitando Vincenzo Vincenzo fa un'ottima Imitazione di Giovanni È tipo Muppet Show C'è la mano Spero di essere la versione Obi-Wan Kenobi Di questo Esatto Sei il dottor proton Di Venturi Mi prendo anche il dottor proton Professor proton Era professor proton Una domanda Diciamo Collegata a quello Che ti è successo Tu sei uscito Da Da un coma La mia domanda La mia domanda è L'Italia A livello di pensiero È in coma Ci sono segnali Di Di rinascita Di C'è speranza Come percepisci Il paese Diciamo Ecco Su questo io Penso che non si possa più Parlare paese Cioè ormai È anacronistico Parlare i confini Dei paese Trent'anni fa Quarant'anni fa Ancora si poteva parlare L'Italia Oggi c'è È l'omologazione totale Cioè Allora Prima l'Italia C'era il 30% Il partito comunista Era un paese operaio C'era le differenze Sostanziali Con l'URSS Differenze sostanziali Con l'America Era più vicino Alla Francia C'era le differenze enormi Con le socialdemocrazie europee Oggi non cambia Più un cazzo I governi In Italia E in Europa Sono identici In America È uguale Il governo americano Democratico È uguale Al governo democratico italiano Il governo democratico americano È uguale A quella merda Che sta I fascisti Non ci sta Chi si incazza Con la Meloni Che sono fascisti Ma che cazzo Sono fascisti Ma so So tutti Io non sono andato a votare L'ultima volta Perché non posso Andare a votare Persone Che valgono Meno di me Politicamente Per la prima volta Vai a votare Un politico Che vale meno di te Politicamente Ormai la classe politica È disintegrata In tutte le robe In tutto il mondo Disintegrate Ma questo è stato fatto Scientemente In modo tale Che la politica Fosse bypassata Dal capitale Adesso Questa cosa qua Tutto gratis Facciamo Ma chi se ne frega Vaffanculo Ve lo faccio gratis Questo discorso Però L'impoverimento Culturale È Dovuto All'enorme Sfacelo Di quello che è stata L'Unione Sovietica L'idea socialista L'idea Marxista Capito Della lotta De classe Un mondo più ego Siccome ha perso Quell'idea lì Ha perso l'idea Ma non è morta Ha perso Per adesso Morta Non muore Niente idea Come bisogna Il comunismo è finito Il comunismo è finito A casa di loro Ma non è finito un cazzo Mai più in questo momento Ci sarà bisogno Di comunismo Tra l'altro A mochi dice Il comunismo Sarà qualche imbecille Che capisce niente Non ha studiato Le idee non muoiono mai Perché i ragazzi Dei 30 anni oggi 25-30 anni oggi Che si sono svegliati In un mondo In cui non esiste Alternativa al capitale Cioè Chi si sveglia oggi Vota Può essere Renzi Con quell'altro E si sente De sinistra Cioè Io sono andato In un mondo Nel 77 Cioè In un mondo In cui ci stava L'alternativa Al libero mercato Capito Tu che dici Che c'entra questo C'entra perché Per vendere Il capitalismo Per vendere Deve Rendere Deve omologare Il prodotto Il consumatore Noi non siamo più cittadini Siamo consumatori In quanto consumatori Dobbiamo essere Tutti omologati E devono Ralere al suolo Le ideologie La cultura Devono tutta una lotta A ribasso In modo tale che vendi Vendi Devono creare Tutti i consumatori Dettagliati In modo tale che devono Vende Bisogni che non C'entra e non c'ha Capito Questo è L'aveva pensato Pasolini 40 anni fa Ma non così Male 50 anni fa Ma non aveva immaginato Un mondo così disastroso Pensava pure Che poi Cioè potrebbe stare Una rivoluzione Fatta magari Dei paesi africani Invece i paesi africani Vengono qua con le bandiere Dell'Isis Invece le bandiere Rosse De Marx Capito È un discorso molto ampio Cioè chi vuole capire Lo capisce Fatto qui in maniera Un po' raffazzonata Però il discorso è che Non è l'Italia Oggi la Francia L'Italia L'Inghilterra Sono tutti Stanno tutte Seguendo le leggi Del libero mercato Seguono tutti quanti L'Europa L'America Che è la parte occidentale Segue il mercato americano Zitti e chiotti L'Europa non parla La parte Est Cerca di fare Cerca di rispingere L'avanzata occidentale E so 3-4 miliardi di persone Che non la pensano come noi Pensiamo che quello Non è il mondo libero Putin eccetera Ma guarda Quelle 4-5 miliardi Anzi Noi siamo 2 miliardi Con frutto loro Quindi Ci sta un mondo enorme Che non la pensano come noi E che non sta rispondendo In maniera Socialista Progressista Ma sta rispondendo In maniera dittatoriale Tra l'altro Con fenomeni D'integralismo islamico Che non erano prevedibili Ma sono stati fatti a cadere Come l'Isis Quindi noi abbiamo davanti Un baratro Sai perché? Perché non c'è Un'alternativa credibile Se non c'è un'alternativa Bisogna aspettare il collasso E quindi aspettare Che collassi Questo sistema Non culturalmente Politicamente Economicamente Deve collassare Il sistema intero Il capitalismo ha perso Ha dimostrato Che è peggio Che qualsiasi altra alternativa È peggio Perché da quando c'è il capitalismo Non c'è più Nessuna alternativa Sovietica Comunista D'Italia Non c'è Le cose Non è peggio Quindi hanno perso Chi ancora sbandiera Il libero mercato È un pazzo Un imbecilo Sono una menaie Perché è un imbecille È il libero mercato La concorrenza Stiamo messi peggio Era meglio prima Quindi L'impoverimento è Del sistema È un sistema Che ha perso Se ha perso il sistema Perdi culturalmente Socialmente Economicamente Emotivamente Perdi tutto Perdi politicamente Tutto è ribasso Ribasso l'arte Tutto E con questo Faccio anche spettacoli Per bambini Signori e signori Questo era Giorgio Montanini Grazie Ci vediamo Stasera No perché Tant'è Perché Verrà distribuito Questo podcast Molto più avanti A luglio A luglio Sì Ci metteremo anni Ma si conoscendo Sì Sì Quando c'è il brancaccio Già c'è la data Almeno Brancaccio è a maggio Però non mi ricordo quando A maggio Mannaggia Giorgio Non mi ricordo quando Però a maggio Beh vabbè Andate a vedere A maggio c'è il brancaccio Interessatevi Fate un passo Due posticini Anzi tre posticini Ce l'avete già Ce l'avete già Tranquilli Ve li do Al matrimonio no Al matrimonio Non mi ho voluto Mettere difficoltà Vedo di fare il regalo È adeguato Lo sai che ha fatto bene Sai che qualcuno mi ha detto Ha stato molto gentile Con voi Giorgio Ma se non mi ha detto così Perché se no Tu ci toccava A fare il regalo Esatto Dopo che Ma noi venivamo Con una cosa simbolica Venivamo Con un quadruccio Con la pasta Come i bambini Non mi avrei fatto entrare Ciao Giorgio Grazie mille Grazie mille Grazie a te Vedi com'è comodo così Continuate con questo format Kebab podcast Un kebab Un podcast A strati Tintori 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 Ssssshk Cosme Ha, 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 ha Ha, ha, ha